amici di tutto motori ben trovati da marco venturi e opel renostar concessionaria unica in modena oggi abbiamo una puntata speciale sui veicoli commerciali partiamo dalla nostra opel corsa che trovate qui alle mie spalle è una vettura polivalente per l'artigiano che abbia bisogno di piccoli carichi ma soprattutto possa essere o benzina o diesel con delle personalizzazioni a vostro piacere inoltre vi ricordo che come tutti i veicoli commerciali abbiamo la super rotamazione da poter ritirare il vostro usato con l'ammortamento del 140 per cento dopo opel corsa abbiamo combo che può essere sia in versione corta che lunga abbiamo le versioni sia diesel che metano e soprattutto vi posso far vedere che avremo tante personalizzazioni all'interno anche per l'artigiano che deve portare in giro la brioche il nostro cavallo di battaglia come sempre abbiamo opel vivaro vivaro che qui gli allestimenti si sprecano e le vostre personalizzazioni sono il nostro impegno vi ricordo inoltre che opel vivaro come vedete abbiamo anche la versione a trasporto persone che può essere corto o lungo e anche qui le personalizzazioni sono tantissime a vostra scelta prossimamente vi presenterò anche il vivaro sport che sarà una personalizzazione per voi molto molto interessante amanti del tempo libero e come vedete ultimo e non ultimo dei veicoli nostri commerciali opel movano qui dire che gli allestimenti sono un impegno per noi darvi quello che vi desiderate dal cassone corto lungo a degli allestimenti anche personalizzati per ditte di autotrasporti gru cassone ribaltabili sono infinite nei furgoni invece abbiamo la possibilità di consegnarvi un veicolo intanto euro 6 e come ricordo sempre super rotamazione e ammortamento al 140 per cento come avete visto abbiamo una vasta gamma di veicoli commerciali per tutte le esigenze e soprattutto per per tutti i vostri bisogni e anche finanziari vi ricordo che opel vi può finanziare qualsiasi importo anche senza anticipo nel ricordarvi che la super rotamazione sui veicoli commerciali continua da marco venturi e opel renostar un arrivederci alla prossima puntata